Grazie a tutti, siamo fregati. Ciò che vogliamo realizzare è un sogno, perché anche non si può far più dire nel valore assoluto perché qui non c'è niente. Assieme a un brano di Scaramarati abbiamo deciso di farlo da una scuola. Vogliamo organizzare e costruire un futuro prossimo migliore, l'intento è creare un condivisione. Vogliamo realizzare un ruolo culturale e fare ricerca e didattica dei sincroni, del primario e del pubblico, applicato all'industria e all'artigiano digitale. Un luogo di innovazione tecnologica e sociale in cui la condivisione diventi una bandiera. Noi crediamo che l'editazione farà meglio il futuro. La scuola Pensorsi è diventata una comunità. Tra una comunità di idee e le persone. Siamo artigiani digitali, designer, maker, artisti, sognatori, innovatori. La scuola Pensorsi è che si occupa di ripartare i partiti comunicativi. Vogliamo idee, persone e progetti per condividere spazi, conoscenze e valori. E soprattutto vogliamo che questo cambia. Grazie a tutti.